Abbiamo incontrato l'ennesima squadra che ha dimostrato che non era la squadra che se avessimo potuto scegliere non l'avremmo scelto, perché chiaramente con il cambio di allenatore hanno avuto il classico impatto che è una squadra che cambia il proprio coach, indipendentemente poi da chi è uscito e da chi è entrato a livello di allenatore, è un impatto psicologico che si ha a prescindere da tutto quello che sta succedendo, loro l'hanno avuto, noi l'abbiamo controllato e poi sono venuti fuori i ragazzi prepotentemente, come diceva giustamente Taeros, con l'energia ma non solo, abbiamo iniziato a fargli capire che non ce n'era e quindi siamo stati bravi soprattutto a cambiare o a farli capire che qui in questo momento non è così fattibile vincere, abbiamo chiaramente le vittorie, ci hanno dato grande fiducia e come continuo a ripetere sempre, finite le partite vedendo giocare la mia squadra in questo modo che ogni giocatore che entra in campo da Justin Carter a Daniele Magro hanno chiaramente tutti i giocatori la volontà di portare come dicevo l'altra volta proprio mattoncino.